Non più pagine stampate statiche, ma la possibilità di associare alle parole e alle immagini contenuti extra che arricchiscono la fruizione del messaggio, video, foto, link, interazioni. Da questo numero di notizie il lettore entra nella realtà aumentata. L'applicazione gratuita, scaricabile dall'Apple Store o da Google Play, consente di accedere ai contenuti aumentati di alcune fotografie. Ma le novità non sono finite. Anche la facciata di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, è riconoscibile. Inquadrandola con AirCode, essa fornisce ai cittadini una serie di contenuti multimediali interattivi legati all'attività dell'Assemblea e al patrimonio artistico.